Hanno bisogno di te. Ti costringeranno. Non sono così potenti. Ma sono loro che ci fanno prendere il sussidio. Ma il sussidio lo prendono tutti. Nessuno lavora più ormai. Ma il nostro è un sussidio speciale e sono loro che ce lo fanno prendere. Non essere tristi e mica ti chiederò di uccidere il sussidio. Non essere tristi e mica ti chiedere qualcuno. È già una buona notizia allora. Pronto? Signora c'è Ryan? E via per qualche giorno. Abbiamo bisogno di lui. Ci aveva promesso che ci avrebbe dato una risposta. Ciao. 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 Ciao amore mio. Come vedi? sono al mare. Dimmi solo se andrai da lei. ciao. 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 Grazie a tutti.